Il servizio davvero migliora per i pendolari? Assolutamente sì, abbiamo già avuto un bel miglioramento con l'orario cadenzato. Oggi con questo nuovo accordo si va a dare una risposta a quei cittadini che rappresentano il 10% degli utenti che ancora oggi non hanno risposta rispetto ad alcuni servizi notturni o durante il giorno. I tempi sono immediati rispetto ai temi degli orari e delle nuove tratte e rispetto alla gara ci vorrà un anno e mezzo per avere il nuovo gestore. Non c'è il bigliettone? Un'autentica rivoluzione anche perché è frutto del lavoro di anni. Oggi noi partiamo, partiamo ufficialmente e vorremmo avere il biglietto unico con tariffa unica alla volta di un anno, un anno e mezzo.